Con 155 chili, 68 nello strappo e 87 nello slancio, la diciottene alcamese Elisa Amaro ha vinto il titolo italiano juniores di sollevamento pesi nella categoria fino a 55 kg. La neocampionessa italiana da circa tre anni si cimenta nel crossfit guidata da Giuseppe Filippi, ma negli ultimi mesi, quelli in cui si è dedicata al sollevamento pesi, si è affidata alle cure del palermitano Marco Radicello per gareggiare con i colori dell'iron fit. società del capologo isolano. In appena quattro mesi Elisa è riuscita a salire sul tetto d'Italia, vincendo meritatamente, a sorpresa perché è praticamente sconosciuta, la competizione tricolore svoltasi al centro sportivo dell'esercito di largo dei portabandiera a Roma. La diciottene alcamese ha vinto il titolo italiano ai danni di Lavinia Magistris con un poderoso slancio di 87 kg che le ha consegnato la medaglia d'oro. Io faccio pesistica da pochissimo tempo, devo dire la verità, circa tre mesi, sette e mezzo, quattro. Da pochissimo che conosco questo sport, ma subito mi sono innamorata. Devo dire che sono emozionatissima, non me lo aspettavo completamente. Tra l'ansia e l'adrenalina sono riuscita a portare questo primo posto a casa. Non vedo l'ora di fare altre gare. Di cosa ti sei innamorata della pesistica? Allora, ho toccato inizialmente pesi grazie alla disciplina del crossfit, sinceramente. Però, diciamo, da un anno che faccio crossfit, subito mi sono innamorata del bilanciere dei pesi. Questa voglia di sollevare mi dà molta grinta e carica, sinceramente. Mi fa sentire, quindi niente, spero di fare bene le prossime gare, di divertirmi sempre di più.